1.734 risultano essere le persone con disabilità impiegate in provincia di Belluno, rappresentanti il 5% dei 36.876 disabili complessivamente occupati in Veneto al 31 dicembre 2018. Lo attesta il report dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, finalizzato a delineare una fotografia dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto. L'Agenzia Veneto Lavoro, attraverso una nota, ricorda come la normativa vigente stabilisce che tutti i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di disabili in funzione della dimensione di impresa. Sono tuttavia previste condizioni di esonero, sospensioni ad esempio per le imprese in crisi e compensazioni territoriali per imprese multilocalizzate. La gestione dell'obbligo, dettaglia ancora la nota, inoltre può avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture pubbliche competenti o affidando commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo B, composte per almeno il 30% da lavoratori in condizioni di svantaggio. Per quanto a Tiena Belluno, dei 1.734 totali, gli occupati maschi superano le donne, 969 sono gli uomini contro 765 femmine. Il tasso di scopertura, ovvero rapporto tra posizioni scoperte e riservate alle persone con disabilità in provincia, si attesta al 12% alla pari di Rovigo ed inferiore al 18% della media del Veneto. Tra gli strumenti attivati a livello regionale per agevolare l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, vi sono anche gli stage aziendali. Nel triennio 2016-2018, quest'ultimi, attivati ai fini dell'integrazione lavorativa, evidenzia il report di Veneto Lavoro, sono stati complessivamente circa 1.700-211, quelli inerenti al territorio bellunese. Mentre i disabili in condizione di disoccupazione e iscritti al collocamento mirato, il 31 dicembre 2018, risultano complessivamente in Veneto 28.908, 765 di questi sono relativi alla provincia di Belluno.